buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv riprendiamo il nostro discorso riprendiamo l'esame dei giornali dopo la pausa della festa di tutti i santi oggi comunque è una festa ugualmente sentita un po da tutti ne parleremo dopo ma prima anzi ne parliamo subito perché cominciamo subito a sfogliare l'almanacco del giorno e vediamo la grafica eccola ebbene oggi è la commemorazione di tutti i defunti una pratica questa che divenne universale la chiesa appunto la propagò da quanto santo dilone che era il labate di cluny nel decimo secolo ordinò a tutti i conventi sotto la sua potestà da lui dipendenti di cantare la sera del primo novembre l'ufficio dei difunti e il giorno dopo i sacerdoti dovevano celebrare le messe per tutte le anime del purgatorio oggi è una visita al cimitero che si impone una visita al cimitero che fa bene a chi la riceve e fa bene anche a chi la fa questa dunque è la commemorazione dei defunti ed ora passiamo alle previsioni del tempo la situazione propone isolati piovaschi nella giornata di oggi modo particolare al mattino seguiti da schiarite sempre più ampie nel corso della giornata il tempo è ventoso ma il clima emite le temperature se girano tra i 15 e i 21 gradi i venti sulle coste spireranno da ovest e sud ovest nell'interno da sud sud ovest e il sole sta per sorgere e anzi è sorto alle 6 49 e tramonterà alle 16 e 59 giornate lo dico ancora oggi sempre più corte ebbene questo è un po la l'inizio della nostra rassegna stampa ora procediamo veramente alla lettura dei giornali e vediamo subito il corriere adriatico sulla pagina di fano quello che è accaduto nella notte di alowen ovvero nella notte dell'altra sera bruciano nella notte i cassonetti presa una banda di quattro minorenni ebbene fino a un certo punto fino al tardo pomeriggio c'era la festa molto bella molto allegra molto tranquilla insomma non si era verificato nulla di grave ebbene dopo un'ora dopo una certa ora diciamo a un'ora tarda ebbè è successo il finimondo veramente a fano ma anche nei dintorni bande di ragazzi hanno furoreggiato facendo da matti hanno incendiato cassonetti hanno fatto scoppiare petardi ma c'erano anche degli adulti in mezzo addirittura a lucrezia gettavano i petardi verso gli infissi delle case ebbene insomma e le forze dell'ordine hanno avuto a che fare a fano era stato organizzato una azione congiunta tra la polizia locale il commissariato e i carabinieri ebbene grazie a dei presidi fissi che sono stati istituiti nei quartieri di sant'orso nel centro storico e nel poderino e poi grazie anche a presidi mobili che si spostavano da una parte all'altra in tutti gli altri quartieri in modo particolare san lazzaro vallato bellocchi e fano sud queste cose sono state contemperate e sono stati individuati quattro ragazzi al poderino che avevano incendiato dei cassonetti e questi ultimi soprattutto i cassonetti della carta sono stati individuati in via campania in via re di puglia e in via frusaglia insomma nei pressi in modo particolare sia della pista ad atletica della trave che nella scuola media nuti quattro ragazzi minorenni che sono stati dunque così identificati poi sui loro confronti si procederà secondo quanto hanno rilevato gli inquirenti insomma una situazione veramente esplosiva poderino ancora nella una volta nell'occhio del ciclone per quanto riguarda le turbative dell'ordine pubblico e questo è un sistema che bisogna considerare sia dal punto dei vostri sia dal punto di vista dell'ordine pubblico che dal punto di vista sociale perché sono due situazioni che si integrano che si intersecano l'una con l'altra vediamo anche danni a lucrezia danni a lucrezia li scopriremo ha detto il sindaco enrico rossi sindaco di cartoceto ebbene anche a lucrezia ci sono stati ragazzi che hanno incendiato un cassonetto in largo donizzetti altri cassonetti poi ribaltati cestini distrutti e rifiuti sparsi per strada il sindaco enrico rossi dice sono stati danneggiati con il lancio di alcuni petardi gli infissi di alcune vie nello specifico anche in via della repubblica e in piazza papa giovanni paolo secondo gli autori comunque non sfuggiranno alla individuazione degli inquirenti perché quella è una zona centrale ed è una zona controllata dalle telecamere quindi insomma lucrezia non è una città molto grande bene o male quindi gli inquirenti potranno individuare gli autori di questi atti che sono atti inqualificabili perché poi per fare baldoria non c'è bisogno di danneggiare gli arredi pubblici e quelli privati ed ora cambiamo argomento vediamo una bella notizia una interessante notizia pubblicata oggi dal corriere adriatico a firma di lorenzo furlani complanare sud questa arteria alternativa alla statale adriatica sud molto reclamata dai residenti si farà si farà sono stati stanziati 43 milioni e sono 43 milioni che fanno parte di quel patto che è stato sottoscritto dalla presidente giorgia meloni e dal presidente della regione marche acquaroli francesco acquaroli ad acqualagna erano 300 milioni più 40 vi ricordate ebbene una parte di questi milioni 30 milioni saranno finalizzati per la realizzazione della complanare sud una complanare che dovrebbe collegare la zona del cesano alla zona dell'aeroporto di fano connettendosi tramite la strada compensativa per la terza costia in cui tratto è stato già realizzato da tombaccia verso l'aeroporto e quindi dovrebbe collegarsi proprio a questa grande arteria ebbene 30 milioni non bastano e allora cosa fa la regione la regione di sua iniziativa finalizza altri 9 milioni dal fondo di rotazione e 3 milioni 900 mila euro di mila euro dal fondo rotativo di progettazione quindi ci sono 30 milioni da parte del governo e 9 13 ma altri 4 4 9 13 milioni da parte della regione marche e veramente realizzare questa arteria che viene così è reclamata da tutti non è come l'arteria dell'interguardieri che viene contestata questa invece c'ha una accoglienza unanime e quindi è già una bella cosa non c'è solo il fondo di coesione nell'accordo con la Meloni l'opera nell'arco di 4 anni dovrebbe essere realizzata vedremo vedremo come vanno le cose ed ora parliamo di un lutto purtroppo un nuovo lutto schianto frontale a Cagli muore un ex barista ferita una famiglia di 5 persone l'incidente si è verificato in via Mameli a Cagli inutili i soccorsi per Lorenzo Candeloro 66 anni di frontone ebbene ha perso la vita questo ragioniere ed ex esercente originario di Pescara ma residente da molto tempo nella Val Cesano era conosciuto in particolare a Pergola perché in passato per diversi anni aveva gestito un bar di fronte alle liceo scientifico quindi un nuovo atto Lorenzo un nuovo incidente Lorenzo Candeloro separato aveva due figlie e lascia anche la sorella titolare con il marito della nota pizzeria abruzzese di frontone quindi un uomo molto conosciuto ed ora parliamo anche di cimiteri dato che oggi è la ricorrenza dei defunti eseguiti i lavori nei cimiteri di Fossombrone di solito si parla di danni di degrado di strutture insomma che sono brutte anche dal punto di vista estetico i cimiteri dovrebbero avere sempre una loro dignità perché in loro si racchiude tutto un involucro di memorie di affetti e quindi hanno bisogno anche di un impatto visivo decente ebbene questa volta si parla proprio di questo c'è soddisfazione buona l'impressione degli utenti in occasione della ricorrenza dei defunti nel giorno in cui si commemorano i defunti una segnalazione rasserenante da parte degli utenti dei cittadini i cimiteri del comune di Fossombrone risultano finalmente tenuti nello stato migliore scrive il Corriere Adriatico è giusto rilevarlo perché è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti un grazie particolare dunque rivolgiamo all'assessore ai lavori pubblici Michele Chiarabelli per il lavoro svolto quindi non non problemi non proteste ma gratificazioni e passiamo a Pergola a Pergola si rileva il percorso miomedico che così caratterizza il corso di studi degli studenti del liceo Torelli è un corso propedeutico per coloro che poi vorranno affrontare l'esame per così arrivare all'università di medicina sappiamo che gli ingressi a questa università sono contingentati l'esame non è certo facile quindi una bella preparazione in vista di questa professione che ha una dicotomia una dicotomia perché servono molti medici c'è carenza di medici e c'è difficoltà per entrare nella università di medicina appunto questo percorso biomedico aiuterà gli studenti che vogliono intraprendere questa professione per superare questo primo importante scoglio morto nell'incendio l'addio nel pomeriggio si svolgeranno oggi le esequie del 72enne Sandrino Spaghetti che è deceduto durante rimasto vittima durante l'incendio che si era sviluppato sabato scorso mentre bruciava delle sterpaglie in campagna i funerali si terranno le 15.30 a Santa Giustina di Mondolfo vediamo anche la pagina di Senigallia la pagina di Senigallia mette in evidenza le scogliere anti erosione che ricevono il placete del sindaco Olivetti Olivetti sono l'unica soluzione afferma il sindaco è pronto a sostenere la richiesta fatta dai bagnini una richiesta importante perché poi l'erosione sta veramente portando via metri cubi di spiaggia metri quadrati di spiaggia per quanto riguarda le concessioni durante l'incontro che si è svolto in comune il sindaco dunque è pronto a sostenere le richieste delle scogliere avanzate da alcuni bagnini adesso ci saranno delle consultazioni per capire se tutti sono d'accordo e dopo aver ricevuto il mandato della categoria il primo cittadino avanza la richiesta in regione perché fare delle scogliere cioè difendere la costa è una competenza della regione Marche e allora passiamo alle notizie di apertura della pagina di Pesaro dove si parla della tribuna del campo sportivo l'exprato l'exprato la permuta tra comune e aspes vale quasi un milione di euro dopo il via libera arriva la determina che perfeziona l'operazione l'operazione di permuta il piano di rigenerazione trasformerà via campo sportivo a pantano dunque si parla in questo articolo del recupero della vecchia tribuna dello stadio la permuta comune aspet vale 900 mila euro ma non si tratta di tirare fuori i soldi si tratta appunto di fare questa permuta con la permuta l'ex tribuna prato passa di proprietà all'aspes e l'aspe cosa fa cede in cambio al comune il campo supplementare dello stadio benelli dunque un affare che viene concluso e poi passiamo ad un altro articolo che riguarda anche qui quello che è accaduto a Pesaro nella notte di Halloween notte di vandalismi al parco di vismara ragazzini rompono arredi e telecamere ma non si capisce perché durante la notte di Halloween durante queste notti bravi i ragazzi per divertirsi devono per forza rompere degli arredi pubblici ma sarà un divertimento che a loro chissà che cosa provoca poi verrà soddisfazione non lo so nel mirino anche la free lab library per inaugurare il presidente della gulliver la ripareremo ebbene c'era questa casettina la vedete qui dove sono dei libri a libera consultazione e beh hanno distrutto anche questa e poi vediamo immancabili gli atti di vandalismo che hanno così distrutto distrutto insomma danneggiato il parchetto del quartiere vismara preso di mira nella notte tra martedì e mercoledì da giovanissimi e hanno pensato bene di fare serata distruggendo bidoni arredi e persino le telecamere della video sorveglianza insomma hanno fatto veramente da matti e qua invece si evidenzia come l'organico si evidenzia ancora una volta come l'organico delle forze di polizia che sono distanza sia a Pesaro che a Fano è insufficiente pochi poliziotti e allo stremo e la politica scende in campo scende in campo in modo particolare l'UDC che è molto sensibile a questo tema e lo fa con il suo portavoce Stefano Pollegioni che è un po' il segretario di questo partito ha poi avuto una delega provinciale per quanto riguarda la sicurezza e qua lo vediamo insieme alla responsabile del SIULP il sindacato che riunisce appunto i poliziotti Marco Lanzi è diventato un caso politico l'appello lanciato dal segretario provinciale SIULP Marco Lanzi sull'assenza a Pesaro di un organico sufficiente in questo caso Stefano Pollegioni ha attivato il senatore Antonio De Poli firmatario di due interrogazioni parlamentari di cui ancora si attende risposta e dovrà essere il ministero dell'interno insomma decidersi di dare a Pesaro di dare a Fano un organico sufficiente di poliziotti veramente quelli che sono sono costretti a osservare dei turni molto molto pesanti in realtà poi il problema è anche un po' superiore alle forze a disposizione della questura e del commissariato e quindi occorre risolvere questo problema saldi a marzo la regione si attivi piccoli negozianti vanno tutelati non saldi subito dopo le feste natalizie ma spostati a marzo insomma quando c'è il cambio della stagione è una richiesta che è stata fatta propria dalle associazioni di categoria ed ora la propone il consigliere regionale Biancani del Partito Democratico in una interrogazione alla regione oggi ci sarà un incontro in comune con le associazioni di categoria per spostare appunto i saldi a marzo a Urbino a Urbino c'è il caso personale di una signora di una signora di origini di origini vediamo un po' che origini aveva di origini moldave però di nazionalità italiana che è stata trasferita a Brescia ma così uno che lavora a Urbino a un certo punto dovrebbe andare a Brescia quindi dovrebbe trasferire armi e bagagli portare con sé armi bagagli e andare a lavorare a Brescia qualificazione così ho perso il posto è lo sfogo di Zina Miron messa in ferie forzate e poi spostata dalla cooperativa con progressione contrattuale ebbene viene promossa però viene spostata a Brescia insomma una penalizzazione per una lavoratrice che fa un lavoro un lavoro importante come quello delle pulizie un lavoro dignitoso che deve essere valorizzato così come esso merita la donna di 64 anni ha due figli e non è in grado di lasciare Urbino l'ultima paga è stata di 900 euro quindi non sono nemmeno cifre astronomiche ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino vediamo l'apertura dedicata alla notte brava di Halloween Halloween non si smentisce bidoni in fiamme fioccano denunce quattro ragazzini trovati a Poderino con tanniche di benzina altri hanno imperversato con botti e petardi ed era questa un'azione molto preventivata perché i ragazzi avevano i passamontagna avevano il volto travisato in più avevano con sé la tannica di benzina quindi proprio volevano con determinazione non è che la cosa è nata lì in un clima effervescente di baldoria un attimo così di eccitazione no no era una cosa preventivata volevano andare a distruggere i cassonetti e lo hanno fatto e poi anche l'articolo che riguarda Lucrezia qui vediamo l'incendio del cassonetto in via Donizzetti a Lucrezia piccoli roghi e immondizia per strada ed ora parliamo qui anche qua abbiamo una bella notizia mentre il Corriere Adriatico ha annunciato la realizzazione della complanare sud il resto del Carlino invece annuncia finalmente la demolizione dell'ex Carducci e la sua ricostruzione cantiere ex Carducci parte il conto alla rovescia ebbene entro la fine del mese di novembre dovrebbero iniziare i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio scolastico dichiarato inagibile la consegna del nuovo dovrebbe essere fatta entro il 2026 la conferma arriva dal dirigente della provincia Maurizio Bartoli che annuncia un unico cantiere per le scuole del Nolfi l'ex Carducci dichiarato inagibile dall'inizio dell'anno scolastico del 2019 e per il quale sono stati stanziati 9.710.000 euro di quali 5 milioni di finanziamento ministeriale con la legge Sisma 120 e 1.710.000 euro di fondi GSE oltre a 2.960.000 euro dalla provincia sono un tatale di 9 milioni ebbene finalmente i ragazzi che ora sono un po' dispersi e nei diversi istituti della città di Fano i ragazzi del Nolfi potranno avere una sede unica e poi anche una bella sede perché una nuova scuola sarà concepita, progettata, organizzata secondo i più moderni metodi didattici anche l'edificio Aule dopo il prossimo giugno sarà rifatto ex novo gli studenti dovranno essere trasferiti altrove intanto ebbene una notizia finalmente bella schianto a Cagli un morto e 5 feriti si parla dell'uomo di Frontone che è deceduto in seguito ad uno scontro con un'auto su cui viaggiava un'intera famiglia chiusa per più di un'ora la provinciale per Pergola e a proposito dell'Udc vediamo che il resto del Carlino pubblica la notizia anche della costituzione di un nuovo direttivo un nuovo direttivo capitanato da Stefano Pollegioni è composto da Anna Moruso, Gabriele Vincenzi Giovanni Grisanti, Lorella Galante Tania Grisanti, Sabina Stortiero Vincenzo Silvano, Vito Di Palma e Achille Cacace Fano è una città importante bisogna che anche questo partito si dia una struttura efficace in modo appunto da far fronte a tutte le esigenze della città A Urbino, le discariche servono se sono piccole è il gruppo Rifiuti Zero che chiede un incontro con il sindaco Gambini gli scarti possono essere risorse per l'economia circolare ancora la questione Rifiuti Incombe per quanto riguarda l'entroterra dopo la discarica di riceci contestata un po' da tutti ora Sipar si cerca di risolvere la questione perché è inutile dire non vogliamo la discarica di riceci ma in un certo momento i rifiuti da qualche parte bisognerà metterli e la proposta del gruppo Rifiuti Zero è quella di realizzare piccole discariche e intanto sono stati avviati i lavori stradali in via Francesco Budassi e riguardano il rifacimento del manto stradale nel cuore del centro storico nei giorni scorsi i lavori erano stati annunciati dal sindaco Gambini giriamo ancora la pagina e vediamo come Cagli è in lutto per la morte della commerciante Scaglioni di cui qui vediamo una bella foto sorridente oggi si terrà il funerale in Cattedrale aveva 71 anni per decenni ha gestito notissime attività nel centro cittadino e poi parliamo ancora di tartufo tartufo ad Aqualagna al centro delle ricerche scientifiche il tartufo di Aqualagna è stato veramente al centro dell'ultimo weekend grazie alla visita del Meloni molto animato il mercato del tartufo ci sono esemplari veramente di una dimensione piuttosto rilevante ma ora si fanno proprio ricerche scientifiche perché incentivare questa produzione vuol dire attivare tutta una serie di iniziative economiche dell'entroterra e chissà quante ne hanno bisogno e a proposito dell'arte dell'entroterra voglio farvi notare questo articolo nella pagina degli spettacoli indagine su Piero appare Federico il Duca di Urbino sarebbe tra i personaggi che si trovano ai piedi della Vergine della Madonna della Misericordia e questo appunto è il quadro di Piero della Francesca con la Madonna della Misericordia siamo in conclusione voglio segnalarvi in ultimo la notizia di quanto ha fatto il Fano Calcio che purtroppo ha perso la partita con l'Aquila Fano sconfitta immeritata Fano 1, l'Aquila 2 la malizia e la qualità dell'ambizioso L'Aquila hanno la meglio sulla esuberanza della giovane Alma e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa l'appuntamento con l'informazione alle ore 20.30 di questa sera con occhio alla notizia il Tg di Fano TV e domani ancora con la rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci